Allora, abbiamo visto Ultimata, la pizza del nostro concorrente che viene da Castellammare di Stavio. Tu sei? Adello Di Martino, ristorante e pizzeria con un mese e tè palina a Castellammare di Stavio. E quella è la pizza che hai presentato. Quali sono gli ingredienti? Dici appunto tutto. Ho portato un impasto con tutti i cereali, 100 ore di alimentazione, con fiori di zutta, ricotta, pancetta e fiori di latte di aceto. È una pizza molto richiesta da te? È una pizza che a questo palino sta andando molto bene. In bocca al lupo, grazie.